Giovedì 8 marzo alle ore 18 nel Salone del Museo di Cesano del Seminario Vescovile di Caltanissette in Viale Margherita si terrà l'incontro sul tema la venerabile Marianna Mico Roxas negli scritti di Monsignor Giovanni Speciale nell'ambito delle tre tende della memoria, l'iniziativa del Seminario di Studio e della Diocesi Nissena dell'Istituto Teologico Guttadauro. In apertura il saluto di Don Giuseppe Danna, docente dello stesso istituto, interverranno la professoressa Maria Dina Falduzzi su eredità di una vita, la professoressa Aurora Caramia su consacrazione nella ricchezza della femminilità e Don Calogero Panepinto su donna nella chiesa. Marianna Mico Roxas è nata a San Cataldo nel 1883, scomparsa nel giugno del 1947, fondò la compagnia di Sant'Orsola nel Lisseno.